Questa differenza è inaccettabile, non riusciamo a spiegarla alle nostre imprese. Sono le parole di Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, capofila della rivolta dei 46 piccoli borghi italiani che hanno firmato l'appello al governo. Tanti di questi sono toscani, ben otto della provincia di Siena. Il decreto agosto, spiega il primo cittadino, contiene molte norme positive per i comuni a partire dall'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, oppure l'incremento del ristoro dell'imposta di soggiorno per far fronte alla crisi Covid, ma i piccoli comuni sono completamente tagliati fuori dalla norma sui centri storici. Un provvedimento, questo aggiunge Marrucci, pensato solo per i grandi agglomerati urbani, che ignora tante piccole e medie amministrazioni a forte vocazione turistica, che con le loro eccellenze e i loro centri storici, talvolta anche patrimoni dell'umanità, sono spesso volano per interi distretti turistici. In effetti la differenza con il capoluogo di provincia, Siena, è ben evidente. La città del Palio ha beneficiato, oltre ai contributi, anche di un'esplosione delle presenze da metà luglio e ad agosto. Ristoratori e alberghi fanno ora i conti con una ripresa dei fatturati, ma tutti avvertono che non si può vivere con un solo stipendio all'anno. Il calo degli incassi sarà pesante a fine 2020. In netta ripresa, comunque, a Siena ci sono anche le presenze nei musei, soprattutto con il boom di visite per la scopertura del pavimento del Duomo.